Un nuovo ambiente scavato nell'area centrale della città antica, dipinto in blu e interpretabile come un sacrarium, cioè uno spazio dedicato ad attività rituali e alla conservazione di oggetti sacri. È questa una delle ultime emozionanti scoperte che ha regalato lo scavo in corso nella Regio IX. Su sfondo blu, le pareti mostrano figure femminili che raffigurano le quattro stagioni, le ore e le allegorie dell'agricoltura e della pastorizia. Il colore azzurro era raramente testimoniato negli affreschi pompeiani e in genere era presente in ambienti di grande impegno decorativo. Lo scavo ha restituito oggetti appartenenti all'arredo della casa tra cui 15 anfore da trasporto e un corredo in bronzo composto da due brocche e due lucerne. C'erano anche materiali edilizi pronti per essere usati nelle ristrutturazioni e sulla soglia un mucchio di gusci di ostriche già consumate, dopo essere stati tritati, venivano aggiunti agli impasti per gli intonaci e le malte. La stanza, che misura circa 8 metri quadrati, si trova nella porzione meridionale dell'isolato in un quartiere secondario di una grande domus, che ha finora restituito un quartiere termale ancora in corso di scavo e un grande salone nero affrescato affacciato su un cortile, con scala di accesso al primo piano del complesso.